Ah, controlliamo prima l'audio questa volta, prima di fare qualunque cosa, infatti è bassissimo, già lo vedo Invece è al massimo Peggio, peggio Peggio allora Non so se sia peggio che sia basso o che sia alto Ma è alto, gracchia poi Dunque, 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 bentornati sulla... Sto morendo Sulla Tinker Construct 3... No, sul pacchetto senza nome Ecco, gli avevo dato il nome l'ultima volta E dunque, l'ultima volta ho allargato le coltivazioni Non ricordo se avevo finito a farle Mi mancavano i cavolfiori, io non ho parole, è che non riesco a trovare cavolfiori in questo mondo Non è possibile Dovrebbe essere una cosa illegale non trovare cavolfiori Vabbè Ok, ok Stavo pensando Che forse, forse... Sì, oggi mangiamo tre pomodori Tanto per iniziare Devo fare una cosa assolutamente da fare da un po' Che se mi fanno danno, li odio Ok Ovvero mettere un hopper lì sotto Che mi porti le uova in una chest Ok Prima cosa da fare Ah, queste chest sono brutte però No, fammi fare una chest Buona Anche un barrel, dai, perché no? Non capisco perché non ho messo i barrel di tutti i colori Vabbè Allora Pulli, vedete che dovete fare? Ho il bar e l'andrà qui Ok Non mi piace moltissimo Vabbè Ce lo faremo Basta No Ah no Deve esserci a forza un blocco sotto Ok Tac Eccoci qua Top 1 di 100 Che questi fanno male Poi togliamo queste E ci mettiamo i tubi Ecco qua Ah Fermi tutti Manca una cosa Oltre i tubi Ok Preciso E' un po' fastidio quello Ma non fa niente Ce lo faremo bastare Dunque C'erano delle uova Ma droppate ora che ci penso Vabbè L'upper ci sta Via questa E questa è fatta A cosa servivano questi? Ah buono Bello Oppure una torta Ah pozione della rigenerazione del mana Vero Vabbè Tanto le pozioni Capirai quanto ne usi Ok Ok Adesso è giunto il momento di fare La 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 Ah questi mi servono Perfetto Bisogna rifare un altro po' di grout Senza ghiaia Vabbè Quello che ci esce Ne faccio Per adesso Bam Intanto squagliamo questo grout Tanto non dovrei fare troppi mattoni Pensandoci Ok Così acceso A che Cazzo consuma un sacco di lava così Non so se il melter vale la pena tenerlo Anche solo per fare questi Perché consuma tantissimo Anche perché adesso sto per fare la smelterina più piccola Quindi Vabbè Comunque se adesso voglio fare la smelterina qui La farò tipo due per due Alta quanto questa E semplicemente qua ci sarà un drain No più su ci sarà un drain Che porta la roba qui Ok Svuota più velocemente Ok Non vedo mob Stranamente C'è il libro Nel incantesimi Wingardium Wingardium Levion Sparallelo Spar Ok Questi già posso iniziare Oh shit Temporali toni e fulmini Ah Giusto Ho aggiunto Ah giusto Forse è meglio controllare Effettivamente Che non vorrei aver fatto cappellate Ok Chance 2% Chance 0,5% Direi di no Ok Bisogna ricaricare tutto Se no Succedono casini Eh devo fare anche Facciamo ricaricare Ora ha fatto Ok Adesso sta frizzando Perfetto Devo mettere in peaceful Perché sono spawnati un po' troppi mob Che non dovevano spawnare Ok L'unica cosa è che adesso ho fatti spawnare fuori Mannaggia a me Ah non mi spari più Lello Oh bello Aha Ok Perfetto Sparare altri mattoni Allora Qui deve andare la smelteri Ok Vabbè poi quelli sposterò un po' più in là Qua ci va la lava Anzi la lava la metterò qui Ok Qua ci va il coso Ah già Ok sì Mazza non sono bastati per niente Perché devo andare a prendere l'altra ghiaia Allora vamonos Dovrei imparare a mangiare Mentre si genera la vita Perché è meglio Si consuma meno barra della fame Così E come funziona La fame adesso Paletta gigante Vai A prendere la ghiaia Ok dicevo Ho messo tre mob speciali Un creeper e due zombie Uno zombie Zombie sono due mini boss Tecnicamente Uno da semplicemente un trofeo L'altro invece Da Può dare l'armatura Figa E Vabbè la ghiaia non mi serve E E E Aha Eccoci qua Ah questa ci devo mettere Siltach Assolutamente Che volo Via 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 Ok Dicevamo Proviamo che non viene nessuna Perché qua vengono da qui sopra C'hanno le x-ray In questa playlist che metto C'è una canzone che mi piace Non la trovo più Proprio che non l'hanno tolta Grandi bestemmie E così non va bene Troppa flint Posso ricraftarci la La roba no Non ho portato il martello Vero No Vabbè pazienza Ah già mi dimentico Devo mangiare Mentre si genera la vita Ecco Ne ho preso un po' Allora Il boss Il primo boss zombie Ah è boss Tra virgolette Perché in realtà è più Mini boss Ha tipo Tutta l'armatura E la spada di ferro L'armatura può essere Di ferro o di diamante E questa armatura Però può avere degli attributi In più tipo Più vita Più velocità di movimento O più Danno Ovviamente Purtroppo questi attributi Si applicano anche al boss Però se il level drop È un'armatura Che si può usare E dà comunque Sento uno scheletro Molto vicino Perché scappa? Ah questo è uno di quegli scheletri Che scappa E non attacca Mentre scappa Ok Ho ripreso altra ghiaia Non solo quella Ma vabbè 38 e 48 Oh mo sì Via Aia Spara lo zombie Spara lo zombie Perfetto Ok Oh mi stanno tipo Bumbard Ho visto anche un creeper Niente Via Direi via Ecco il creeper Guarda quanto corre No Speriamo che non è uno di quei creeper Che No Mi sa che è uno di quei creeper speciali L'abbiamo già trovato È un creeper molto veloce Che esplode quasi istantaneamente Vai se vuoi entrare È scappato Ok Vabbè andando quello comunque sta squagliando Sì è uno di quei creeper sicuro Corre troppo veloce Se entra dentro Sono morto Praticamente Piano d'azione Dormire Sì Ormai un po' di cibo ce l'ho E di sfruttarlo Eh niente Devo fare tipo Aaaaaa Il zombie è andato dentro Aha Insta creeper Sì è proprio lui Non è un creeper che va su Instagram Però è un creeper che se Che esplode quasi istantaneamente Via Ok Cuccia 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 Ok Un problema in meno Però Non mi piace che sia Così Bisogna modificarlo un po' Oh shit Ok Bella È una buona trappola quella Vabbè ci entrano dentro Un problema è che non possiamo dormire perché M'ho bello lì dentro Se dovessi così Niente Va bene Mi arrendo Ok Ah ho messo anche di piove almeno Oh no Oh 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 Quanti phantom Quanti phantom Oh è vero Mi ero dimenticato di questo particolare Vieni qua che ti sparo Ehi quanto sono veloci Puccia Puccia Ah chi è bloccato Il creeper è ancora qui dentro Vero adesso Ok è iniziato a bruciare Ah Dov'è lo scheletro che stava bruciando E che mi ha dato fuoco Pesso de fango Ok è rimasto il creeper lì Ok Ah Ok è una buona trappola per farci finire i mob Però anche i polli diventano in pericolo così Niente ci ho provato Ok Pace E amore Tornata In questo posto Mangiamo Una ciotola di riso Ah Buona Altri mattoni Che dovrebbero bastare Ok Mi serve anche uno di questi Uno di questi Qua ci va il drain La faccio comunque un po' in grandicella perché voglio che Un po' di roba insieme la cuoce Non ne sono sicurissime di queste cose Vabbè vediamo come va col consumo di lava Allora questo qui Sicuramente Qui A cazzo Andavo a un blocco più avanti Merda E spostiamo tutto Quindi guarda questo non mi fa proprio salire l'exolution infatti Ma dovrò me lo prendo tutto Niente Durissimo questi blocchi maledetti Ok Perfetto Ricominciamo No qua ci va il drain Ok Ah ecco qua Perfetto Ok Ora devo fare Il melter Vabbè Il sire de melter Ok Allora Il melter Devo fare Devo fare un drain Ah che Ora ci vuole il copper Giusto Sto pensando la vecchia pinker Ok Ok Toc 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 No Scusa Drain Ah Era meno di quel che ricordassi Bam Fawcett non ne ho No Facciamo altri Fawcett Ok Quindi serve il copper squagliato Adesso Ok Ho del copper squagliato qui dentro No ma ho due blocchi e quattro lingotti d'oro Perché questo Maledetto Ok Allora togliamo l'oro Partiamo da questo presupposto Che l'oro o il copper fanno il rose gold Ah fermo Questo sta andando avanti È un pazzo manieco Ecco qui Tolto l'oro Non so se ho del copper da squagliare No Ok Come si faceva questo Un quanto copper quattro Ok Ricordavo bene Poi sarebbe Davvero utile Allargarsi qui E fare anche Quello del nether La smettere del nether Così da poter Immagazzinare i liquidi Senza Paura che si mischino Quelle Tipo una tank Però fa altre cose Eccoci qua Via Abbiamo il melter Lo smelter di controller Sorry Abbiamo il drain Perfetto Mettiamo anche il faucet Qua ci mettiamo questo Giusto Bisogna collegare Attaccarlo Così Ok Ok Però mi manca la torre di vetro Mi serve quello lì No Non mi serve quello lì Mi servono le tank Thanks Mi servono le tank Facciamo che è così Oddio Dov'è No Ecco qui Questo qui Cinque di vetro E quattro di coso Quindi mi servono quattro 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 E quattro Allora Ah ecco cosa posso fare Il clean Il kiln Mi sa Si chiama In realtà Il kiln Ce la posso fare a scriverlo Kilobyte What? Facciamo dei blocchi di mud Si può fare Poi c'è una mud boy Che si può fare Come un modo del bucket E una terra Ah ok Vai Facciamo anche il kiln Ci chiamo clean Ma non si chiama così Infatti Tac Tac Ok Così non ci basta Non me ne servono altre Ah giusto Che sta succedendo Sto morendo Ok Cuociamo Codeste Palle Perfetto Perfatteremo che si cuociono Devo cuocere anche la sabbia Però appunto Si volevo fare il kiln apposta Perché col kiln La roba si cuoce Il doppio Più velocemente Semplicemente Prendiamo un secchio d'acqua Intanto Lascio tutte queste schifezze Che ci ho presso Partire dalla roba Della tinker Passando Per i drop Per non dimenticare La natura Ok Va meglio Questi Adesso Andiamo Mettiamo via Mazza lenta Ecco perché Devo fare Il coso Guarda dove lo metto Merda Allora facciamo così Ah no Sarebbe bello Prendere anche da quello Vabbè Lo metto qui Se mi sembra una francia normale Ho questa nascosta Sì Si può fa Quando me ne servono 7,8 No C'è un altro e due Ancora Uff Ok Via Che altro mi serve Niente Mi serve solo La lava Intanto raccolgo anche questi Così vado a raccogliere Della lava Prendo questi Prendo questo Anche Ah è vuoto Oltretutto Grazie Andiamo a riempire tutti Un altro secchio Yes Perché puto stai Buona notte Intanto vado a riempire questi Il laghetto sta finendo Maledizione Presto dovrò andare nel nether A raccogliere lì L'ava Per non trovare Un posto decente Plof Plof Ok Grazie Non ho ancora mai fatto La La Foundry Cioè la Smetterly del nether Perché Che sì Non mi ho fatto La foundry ancora Perché ancora Non era stata aggiunta Quando ho giocato prima Ok Ma dobbiamo arrivare a 20 Ed ora raccolgo Un'altra roba Sarà una tre di copri Sarà una fornace Ah ok Per i cobblestone Fatto Andando Rompo tutto Perché così Ok Se voglio raccogliere I frutti di quello che ho cotto Dovrei prendere un po' di esperienza Ah no Dovrebbe darmelo lo stesso Se la rompo È vero Vabbè Minchia Quanti livelli Vabbè Finisci dai Sono buono Questa la lascerei così Sinceramente Effettivamente Non c'è la di bisogno Di rompere l'opper Ho rotto tutto Quasi inutilmente Però sostituirò quella Sostituirò quella Ecco Meno questa Ok Grazias Ok Allora Clean Questo Blocchiamo la rotazione Mamma Adesso si ragiona Bam Ora sì che posso cuocere La sabbia Più velocemente Ok Dicevamo 4 4 4 4 E 4 Perdo un altro po' Bello che la tinker Si è ridotta Tra questi 3 blocchi 4 Se mettiamo anche Il pattern chest Ma alla fine Il pattern Si consumano Quindi Ah no è vero Non esistono più pattern Quindi il pattern chest Non esiste più Esiste la cast chest Che però comunque È separata Quindi Bello Ci sta Ok Già si inizia Ad avere Più Più vetro Ah no basta Ok Lo rimetto di qui Questo riprendo E li vado a riempire Secondo me 16 secchi di lava È finita Ok la smelta di gigante È utile Se vuoi cuocere Se vuoi cuocere Qualcosa Di tanto Ma quella Per quelle poche cose Che ho adesso Non ne vale la pena È uno spreco enorme Non me l'ha preso Ma allora Ok Ora l'ha preso Ok Questo lego È più duraduro Del previsto Niente Ho buggato tutto Ho buggato Ok Abbiamo anche la lava Per la mini smeltery E a questo punto Mi chiedo Mi conviene Quando farò la foundry Tenere questa smeltery Quando posso usare Comunque questa Wait What Fermi Non dovevo riuscire a pillarare Perché sono riuscito a fare il pillar Ma che diavolo Scusa Così non posso fare Come se shift Ah se shift A quanto pare Perché li posso piazzare Comunque Chissà perché Magia Della tinker Allora via questi Alza il cazzo Questa è una zona industriale Non ci devono essere i fiori Ok Ah Una mini smeltery Andiamo a squagliare qualcosa Non ho niente Andiamo a prendere qualcosa In miniera Martellone venale a me Via la lava Via il schifo qui Mud Sì Red bricks La paretta via Cibo Mangeremo di questi Sì Ok Mezz'ora solo per fare la smeltery Sono velocissimo Cazzo Allora Questi poi li devo spostare Devo dargli un posto decente Li ho messi là Un po' a caso perché non conosco la mod Ma prima non la tinker Devo iniziare a uccidere gli enderman Per l'enderpearl Fare fortuna No sento un ragno Eh vaffanculo Sento ma non lo vedo nemmeno Dicevamo Si so come modificare il creeper Quell'ista creeper Per renderlo un po' più Più giusto Più fair Via Nooo Bravo Uccidere quello Io vado a prendere l'arelson Che avevo visto qua sotto Anche il ferro Se non mi sbaglio Yes Vediamo che c'è più di un blocco Yes Via Grazie 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 Altre adesso Lo prendere con questo Perché c'è fortuna Maledizione Forse c'è un altro sotto Comunque conviene No un cazzo Un cazzo Ok Ah qua c'è altro ferro Vedo di approfittarne Ma alcuni mi spingeranno la lavaguarda Eh Meglio stare così Comunque più visione Cosa sarà solo Poverino E invece Quanto Facciamo così Saperlo prima Alla Beh Ora un po' di ferro a squagliare Ok Un po' di gollo Perché no Boom Grazie Un po' di carbone Non fa mai male 13 di carbone Per essere preciso Ok Qua non vedo Qua non vedo Altra roba interessante Quanto altro carbone Che non nessuno Voglio riprendere Paura è qui Mi piovono cose addosso E muoro Ecco appunto Tutto pezzo di me Così Così Grazie No Ok 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 Un po' di carbone Un po' di carbone Un po' di carbone Un po' di carbone Giustamente E' che Per spano Più in alto Giusto Ah buono Pappiamo un creeper Qui dentro Pappiamo un po' di carbone Da lei Da che paese Evacuiamo Evacuiamo Questo ferro E questa Eh questo Questo ferro E questo ferro Si Questo ferro E questo oro Via Ok Ecco Questa è una cosa Che dovrei aggiungere Una cesta Per inserire Gli oggetti Gli vado a mettere qui Si Perché adesso Tutta questa roba Non ci entra Uh No Non l'ho colpito Davvero Che hitbox di merda Oh c'è 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 Cuccia Oh l'ho ucciso Ah C'è Guarda come vuole in alto Vedo il mana Vai 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 Alla Ok Aha Avvicinato Stronz Perfetto Quindi Bastardo Bastardo Mettila Ok L'altra dove è andata Allora Facciamo così Così E qua mettiamo uno degli oggetti input output da Pinker Ovvero Melter input output Ok Ah come quell'altro ma in orizzontale su Allora Ah a proposito Voglio finire a mettere la redstone qui Questa io sa che non ce l'ho potuta mettere tutta prima Ok Ah va 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 già meglio Anche sul piccone voglio Beh sì Perché no Dovrebbe avere anche altra redstone No Alla usata mi sape fare qualche incantesimo No Questa la tengo allora L'importante era il martellone Ah Ah Non so se mettere fortuna Aspetta La silka Silky cloth Maggio sia un modificatore Ah se ne servono 5 Ok Ah Serve il rose gold Ah Beh E che problema c'è Ta da Come finalmente usare i fili che ho Quindi questi più la paletta gigante Yeah Fluff Oddio che c'è davanti Ah pure Ah ok per delle abiliche ok No ma Molto zicca Liscio come la seta Ok Ora c'è il touch Perfetto Buono Ottimo Eccellente direi Dicevamo Quattro mattoni Due di copper Facciamo l'input Output Degli oggetti Ok Sturiamolo a questo Perfetto Così posso mettere gli oggetti qui dentro Questi vengono a squagliare Questo non è tanto più lento di quell'altro Devo dir la verità Sì È più lento Eh per carità Però Somma Non so se ne vale la pena Dammi un po' di Domanda Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Ok Sette Sette volte si è riaccesa Per bruciare uno di ferro Ok Ah questo deve essere automatico però Fermi Ok Questo deve essere automatico Perché devi andare di là Wow Che magia Ma questa esperienza Si è bloccata lì Ok Ripetisco Mi dimentico che devo mangiare Ok Eh che carino È lungo il processo Però va bene Mi servirebbe un altro ferro Per vedere Quanto ne consumo Per cuocerne uno Perché Insomma Qua ne troverò uno No Qua non c'è il ferro Andiamo a qua Trovo del ferro Oh Parecchio anche Paura Paura totale Oh Molto più veloce Adesso anche Grazie 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 Gentilissima Ok Andiamo a cuocere un ferro Quanto ne consuma Uno Due Tre Io dico tre Si Nemmeno tre Ok Ne vale Si Ne vale la pena Adesso consuma Più del Dio Circa il doppio No Più del doppio Rispetto a quella E questa qua ci metto gli oggetti E si squaliano Si 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 Meglio questa Via Questo intanto mi sta facendo Le source gem Un po' lento Ma Meglio di niente E si riprendere Grazie Perfetto Ok Tempo di fare Vediamo se funziona Ah 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 Ripetisco Ah Ah Eh niente Era destino che dovevi morire Stavi troppo in mezzo alle scatole Si è arrivato al mezzo addirittura Opla Ecco qui Abbiamo un sacco di sugarcreens Possiamo fare un po' di librerie Direi che non è una brutta idea Cioè se avessi la pelle potrei fare un sacco di librerie Posso farci qualcosa No Dov'è 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 No 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 Non si spregano le cose magiche Perché servono sicuramente a qualcosa No Allora questo se non mi sbaglio però ci posso fare I libri No Sì Con la canvas Vai Andiamo a sfruttare un po' di roba Ok Il resto invece Puche Allora una slimeball e due pattern No due pattern abbiamo detto Ok E una slimeballs Slimeball ne ho sì Grazie Oh un buon ammontare di libri direi E poi se ci faccio subito le librerie Dimmi che ci sono le librerie di Willow Dimmi che ci sono le librerie di Willow Questa è una bookshelf Bellissimo verde Non fa niente se è verde vomito è verde Va benissimo Non ho abbastanza legne Ah No Allora niente Ho axia Che cazzo ho fatto Ah no Sono giusto 15 Giusto Via Ok E questo è dove piazzo scusa Vabbè È un'idea Ok Aggiornati please Armatura Bisogna rifarsela No nel metto ce l'ho già Gli stivali Vedete che vi dico Facciamo così Ma sì Ok Hai potuto disincantarle prima Vero Vabbè Pazienza Ho un po' più di incantesimi Shockwave Mana regen Projectile protection Vai Projectile protection sicuramente Death strider Non sarebbe male Shockwave Non sono un fan Però mi è uscito Però te lo metto Niente Ha vinto Ma cacchio Ho finito Lapiscazzuli Via Qui ci sta di bello Mana boost Mana regen Mana boost Mana regen Fire protection Maledetti incantesimi Del mana Praticamente non fanno uscire Nient'altro Ah no Questo è unbreaking Mana boost Mana boost Unbreaking Ah unbreaking Ok Arriba una boost Eh ma la regen Attacchi Ok La chest plate Vai fare protection Di nuovo Vabbè Prendo qualunque cosa Cosa ho fatto una cappellata Vabbè Ormai è fatta Danno ormai Vengeance Vengeance Che faceva? Vengeance Aspetta Mi sa che questa è della Allurement Non mi sbaglio Controlliamo Controllino Inoino Al volo 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 Ah Lo si chiamava? Vengeance Sì Se mi scrivessi Forse Vengeance Ah Ah ok Ogni volta che prendo danno Mi si carica Del danno in più Da rifare Quando Sono stato molto Esaustivo Riproviamo Ogni volta che prendo danno Si carica Questo Vengeance Quando poi do un colpo Si scarica Per fare più danno Ecco Quindi più mazzate prendo Più mazzate do Mettiamola così Ecco Per renderla semplice Domanda Funziona anche No Il testo destro Non sembra Tornare e mezza così Niente Me la zappa Su qui potrei mettere fortuna Effettivamente Non sarebbe una brutta idea Non sta crescendo niente Siamo in estate Cosa succede Ok Bisogna rifare un po' di cibo Effettivamente No perché mangi Che senso Ha mangiare Cosa mi da Mi sa che mi da qualcosa Quando la mangio Vero Rigenerazione del mana Vediamo un po' Aspetta Facciamo così Vediamo un po' se si rigenera Più velocemente Ok Direi di sì Si rigenera parecchio Più velocemente Ottimo Ah Dovrei anche Mana regen Mana regen Mana boost Un sacco di roba Uh Volete Volete Semini Yeah Niente Questi non si guardano nemmeno Ho detto Facciamolo e basta Ti voglio manco guardà Allora Via 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 Il pesce tropicale Mi ricordo che si può usare What the fuck Ah Perché dà il sangue Il pesce tropicale Ok No Cuocinato Ah si può fare la zuppa di pesce Buono Salva a qualcosa almeno Da fare il Dry 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 Slab dish Allora vai Facciamo altre zuppe Di pomodoro Farei Rifare altre zuppe di pomodoro E con queste altre zuppe di pesce Via Non ho preso i pomodori Sono un pierna Allora via Dimmi che anche il puffer fish Posso usare No Troppo facile Questo posso usarlo Per fare Sì Posso usare anche questo Ottimo E pomodori Facciamo così Non siamo tirchi Su Ecco Così Ci siamo Ottimo 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 Mangiamo Piun 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 Ma la leggenda Non è male Come effetto Ah già Mancano anche Le cipolle Buona le cipolle Non ho le cipolle Ecco le cipolle Questa è un'altra Ora che si rompono Ora che si rompono Ah giusto Vieni Avevo dimenticato Questo piccolo particolare L'unica cosa che mi sconquifera Un po' Dove mi fanno Un controllo Ok ho fatto una modifica Alla Alla mod Degli stack Ora si staccano un po' di più Ste robe Per un po' di più Intendo uno in più Che comunque Mica male Questo qua mi da fastidio Che è rimasto da solo Io adesso farò Un'ultima Zuppa Apposta Ok Ok questo è anche finito Fare tutti i seed bricks Questo non c'era niente Perfetto Ok Grazie della ciotola Così abbiamo 9 Di cibo potente Ecco Allora Stano te dormo Ma sì Ma che me frega Ma che ci frega Ma che ci importa No aspetta Posso dire più in là Ok Salve Nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Uno zombie che sta ballando Ecco grazie Mori Dunque Dunque la farm Qui mancano i cavolfiori Basta Questi ultimi 8 minuti Andiamo da qualche parte A cercare i cavolfiori Maledizione Maledetta Ma questo non c'è Ma questo non c'è Ma questo non c'aveva Overslime Overcast Ah non c'è lo slime Quello potente Giusto Basta Via Me ne vado Ciao Lo stanco Di là Ok sì Andiamo di là Via No niente Riesco sempre a rimbalzare Contro un angolino Di qualche blocco Non è possibile È un dono Eh niente Bene Complimenti Vivissimi Salto migliore della storia Ok Wii Allora Cosa cerchiamo Cavolfiori 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 time Wii Uh canestro Non penso che qua sopra li trovo Maledetti Cavolfiori Cavolfiori Non ne vedo Cioè non vedo proprio le piante quelle Uh Uno di quei biomi rosa Quei fiori di ciliegio Bellino Uh anche gli yak Oddio Taglio del mondo Gli yak Ciao yak Non ho portato le forbici Sennò vi yakavo Non c'ho tipo No Non c'ho quello delle forbici Niente Sennò c'è un incantesimo Ok 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 qua c'è il bioma Rosa Nella Invaro mental Se non mi ricordo male Vediamo un po' Sì Invaro mental Comunque non c'è quello che cerco Io Cos'è quello Un dungeon Suonato nell'acqua Che poi in realtà è una parola Immorta Una parola Senza niente Un bel fiorellino Pink Grover Uh papere Io cerco Delle maledette Uh uova Dicevamo Io cerco Delle maledette Ok Una palluna Un villaggio Con una di quelle casette Dove abito io E ecco qualcosa Però mi sembra Tanto carota E patate Qualcosa del genere Ah cipolla Niente Non è possibile Forse il villaggio Mi aiuterà Please Questa casa si è proprio Messa qui di cattiveria Ah cibo Non si rifiuta mai Roba da squagliare Non si rifiuta mai Almeno questa Ok Villaggio deserto Ah qua c'è il coso A compostare Anche qui C'è un buco per terra Per qualche motivo Tavolo del fabbro Cosa sei Cosino volante Uno Uno Sir Ok Carino Non so cosa farci con te Ma sei carino Perché detto così Siamo un po' pedoni No mi dissocio Poi c'è un baule No Ah lo smoker Ah questo è il Il porcaio Il butcher Qua mi sa che non c'è niente Salvemi scusi Parti C'è niente Ecco abbiamo una casetta Con Uh Il ceramista Ciao Guardi Le rubo lo smeraldo Dando non lo usa Cosa che sono Ah Brifit e ragotta Carini Il resto lo le lascio Ai Ok Ah sono mattoni Ah che li avevo presi prima Via Questo è strano Questo è cisellato Ok Però Cipolla è zero Ah C'è anche il frecciaio Guardi Non mi serve la flinta Mi dispiace Niente Però effettivamente Fino ho trovato solo Quasi solo case Da lavoro Eh no niente C'è solo questa Maledizione Niente Manca un baule Non è possibile Una case Le ho viste tutte Sì No Quella no Questa mi sa nemmeno What the fuck Ah sì Questa è un'altra casa Di quelle Queste case Non ho viste Cic No Cavolfiori 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 Un altro è uno Quanti fabbrici sono Guarda Niente Un baule Manco a pagarlo Ma che diavolo Tutta colpa tua Ah Interessante Ma sul Cosa esce Di là No Escono solo Il bioma Ma qua una volta Ci sono arrivato E' provato a salirci Sopra Sono entrato dentro Ma Un mob Fortissimi Potentissimi Ma che non so Se c'è effettivamente Un punto Da dove entrare C'è quello Che non capisco C'è un'entrata O bisogna per forza Scalare In sto posto Ma soprattutto I ghiacche A cosa servono Tipo la pelle Ghiacche Chi è Ah già Camminata solo Se faccio contro Allora Questi mi danno questa Se non mi sbaglio Che ci posso fare I pantaloni di ghiacche Solo i pantaloni Però Ah funge anche Da corda Un alternativo Ai fili Oh 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 No niente Questo non è nemmeno Un'entrata E' quello che non capisco Io vorrei sapere Se c'è un'entrata Perché Vedo che Uno sbarre In giro Ma Intanto Questa che cos'è No? Non è le solite Case con gli scheletri Io sbaglio No Cosa diavolo è? Cos'è questo? Dove ti lanci Scusami Via Ok No Poi è chiuso Ah Ok Qui c'è un baule Quanto vende Dio Oh Ho visto un bastardo Pazzo Ok Una fornaccia Ho visto un bastardo Sopra Ovviamente non si muovono Mica sono scemi Invece è caduto Ah scappi Pauro Troppo forte Per te Ok saliamo su Ok Voglierei i frutti Di questa Precisione Nope Ok Ma c'è uno spawner sotto Come sono arrivati Quelli qui Ok Ok No mi sa che non c'è Ma c'avevo lo scudo Oh Non ho visto un altro Cosa c'è pure lo scudo Ok Via Così sembra la solita roba Alla fin fine Non c'è molto Monastero Sembra le solite cose Via le cipolle Via questi I padini sono utili Questo è ferro Questo è più ferro Veramente Perché adesso Non mi interessa È una cosa del genere Ok Ok Oh cazzo Ok Second bringing Nulla di interesting Sperate Chi mi dà più ferro Questo si può squagliare No Inutile Questo mi dà anche Incantesimo Questo quanto ferro Mi dà Scusa Mazza Sette ringotti Niente Allora Vince questo Al posto del piccone Eh Alla fine C'è sempre Quasi solita roba Quindi Uh Un arco incantato Però Inutilmente Con power 1 Via Ok Beh Carino come è posto Ah Ma vedi C'è anche qui la strada È tipo una di quelle case Però Tipo una di quelle case Solite La differenza Agia Eh vabbè Ma che È possibile Quanto thorns ha Scusa per colpirmi Ogni maledetto colpo Eh niente Mi sta uccidendo Solo con thorns Ah è morto L'ultimo colpo Eh Vabbè Eh Cos'è quello Ah un altro villaggio O da dove vengo io Ah no Da dove vengo io Ok Maledizione Comunque siamo arrivati in un'ora Abbiamo superato anche Ne so accorto di niente Distrattissimo Concentratissimo Questo non è un pozzone Da fermi Cado qui sotto Non risalgo mai più Ho un secchio d'acqua Sì Allora sì Che ci sta Che ci sta Che ci sta Che ci sta Niente Un cavolo di niente Via Ma non è il villaggio Fermi Non è il villaggio di prima Vì Altro panino Non è il villaggio di prima C'è ancora speranza Infatti no Il villaggio era questo Ok quindi c'è ancora speranza Fermi tutti C'è ancora una speranza Qui ci siano i cavolfiori Perché questa è una casa grossa Niente Cipolla Cipolla I funghi c'è le ho Sì Mi sa di sì Vabbè Al massimo C'è comunque La foresta di arco Accanto L'ho trovati Gli ho trovati Fermi fucking tutti Questo è oro Queste sono diamanti Questo è netherite Altro che netherite vera Fermi tutti Adesso devo tornare a casa Senza morire Senza perdere tutto Di là Perfetto Io vado a casa È stato un piacere Faccio vedere il viaggio Che dovrebbe essere molto veloce Guarda ma come è possibile Mi sono incastrato Corri Corri Non ti curar di loro Loro chi? Loro Niente Ho fatto di tutto Per non sbattere contro un albero C'era un albero grosso Piglia Ok Chi è? Oh Oh Da dove cazzo esci? Guarda il suo stronzo Ok Ha detto che sono Quelli polli Ok Via a casa Tornato di cavolfiori Voglio piantare Sì Sì C'è letteralmente No Devo fare tutto Via 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 Un'emozione Un'emozione C'è un'emozione Punto Non da poco Ci rendiamo conto Cavolfiori Ho trovato Mi è piaciuto parecchio Mi sono reso conto Che cura Mi è piaciuto parecchio Mi è piaciuto parecchio Anche C'è un'emozione non è arrivato vedo il fumo mi butto sulle coltivazioni direttamente vola peppino vola vola che emozione vado a prendere gommia non ne ho no ok che emozione è un creeper che si sta facendo male nelle non ho dei creeper molto scemi quanti ne siete ok panico un attimo ok 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 ossa buon miel mamma mia emozione questo episodio dura tantissimo frega in cazzo via ho sbagliato questo no da dove esci ok dai non è bastato il buon miel perché ho sbagliato a no perché ci serve ok si serve questo ok oh un cavolfiore che emozione è da screenshot questo fermi tutti com'è point dov'è così così per niente che mi si copre la fraccia la fraccia se io ho i cavolfiori posso fare tutto il cibo del mondo adesso c'è impossibile che gli ingredienti principali sono i cavolfiori questo è da appendere secondo me comunque anche per oggi abbiamo passato una bella giornata serata quello che vi pare e io ora lascerò tutto metterò un po' tutto in ordine vedrò cosa fare della mia vita so che metterò a cuocere un po' di questi che voglio riparare la cosa poi è rimasto della sabbia la suola e niente sono un piacere addio no ok perfetto addio addio